Bene, buongiorno ragazzi, grazie per essere così numerosi voi e i vostri insegnanti. Facciamoci un bel applauso una volta tanto. Per chi non ci conosce, vi dico in due parole dove siamo qua. Siamo nell'auditorium del centro di formazione di Biper Banca. L'abbiamo chiamato un luogo di sapere e di passioni. Definizione molto impegnativa, poi ci direte se ci abbiamo preso oppure no. Ecco, qui intorno ci sono un sacco di sale, di spazi in cui la banca continuamente organizza corsi di formazione per i dipendenti, ma non soltanto. Questo invece è un luogo dove si svolgono generalmente degli eventi, degli incontri con l'autore e anche degli incontri con tanti ragazzi delle superiori. Quello di oggi è inquadrato in un percorso preciso. Forse voi ricorderete, qualcuno di voi c'era, non lo so, altrimenti ce lo diciamo, che l'anno scorso parlammo di alcune ricorrenze 18, 48, 68. E fu veramente una cosa molto interessante. Quest'anno invece parliamo di altre ricorrenze che fondano naturalmente nella storia, ma molto di più nel presente. E cominciamo con l'89. L'argomento più attuale di questo, avete visto i giornali e i telegiornali, non c'è, quindi siamo assolutamente in linea con quello che è il mainstream di questi giorni. Ecco, ma non è casuale questa cosa. Perché? Perché proprio qui, in febbraio-marzo, comunque in primavera, abbiamo organizzato un incontro per le superiori sulla moneta unica, sull'Europa e su quanto è importante dal punto di vista economico essere dentro a quest'Europa con tutte le sue contraddizioni, i suoi problemi, però esserci. Guarda caso, e non è casuale, però scusate il bisticcio di parole, un paio di giorni qua, un paio di giorni fa era qui il professor Cacciari, che ha parlato dell'Europa e del ruolo che dovrebbe riprendere, se ce la fa questa Europa stanca, questa Europa un po' vecchia, questa Europa che si vede, come dire, accerchiata da altre potenze, che non è più una potenza, ma che il ruolo potrebbe riprendere dal punto di vista, mi viene da dire, un aggettivo forte, spirituale, intellettuale, ora un approccio filosofico. Il professor Focardi farà un approccio invece, non so se chiamarlo politico insensualato, ma ci dirà lui di che cosa si tratta. Tutto questo è inquadrato in un percorso, vi dicevo, un percorso con cui collaboriamo insieme con il Comune, insieme con l'Istituto Storico e chiamerò tra poco a parlare brevissimamente anche i rappresentanti di questi due enti, ma anche in un percorso più ampio che Biperbanca sta costruendo insieme con i ragazzi, con i loro docenti, sempre delle superiori, che attiene più in generale ai temi dell'educazione finanziaria, un po' di materiale c'è fuori, altro lo avrete dai vostri prof, quindi stiamo collegati. Ma adesso io chiamerei sul palco uno dei due partner all'interno di questo comitato che si occupa di raccontare la storia del Novecento, che è il Comune, con il Vice Sindaco Giampiero Cavazza. Bene, innanzitutto buongiorno a tutti e tutti voi, una premessa ai tre punti, velocissimamente. La premessa è doverosa ma anche sentita, un ringraziamento al professore Foccardi che ci dedica questa mattinata alla città di Modena, perché dopo avremo anche altri appuntamenti, un ringraziamento a Biper che ci ospita, un ringraziamento all'Istituto Storico che assieme al Comitato per la Storia e le Memorie del Novecento ha organizzato questi due eventi e altri che seguiranno in questi giorni proprio sulla caduta del muro di Berlino, i tre punti. Il primo punto, un dato, quando cade il muro di Berlino nel mondo c'erano 16 muri, 16 recinzioni, oggi ne abbiamo 63, che coinvolgono 67 paesi, Messico, Ungheria, Palestina, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qualcosa sicuramente è cambiato, no? A voi giudizio se in quale direzione stiamo cambiando. Terzo e ultimo punto, i confini, i conflitti. Abbiamo dei conflitti appunto guerreggiati nel mondo, abbiamo dei confini fisici, ma molto probabilmente abbiamo a che fare, ciascuno di noi, come singole persone, ma soprattutto come gruppi, come scuole, come città, come comunità, come nazioni, i confini e i conflitti mentali, oserei dire culturali. E allora in una schematizzazione che io porto sempre con me, che tipo di conflitti o confini, no? In questo caso il confine è un luogo, certamente, di cesura, può essere un luogo di ponte, ma può anche essere un luogo appunto di conflitto. Oggi, secondo me, assistiamo a un conflitto molto forte, molto profondo, di tipo culturale. Da una parte, lo dico proprio in maniera schematica, quindi da questo punto di vista mi scuserete, ma avrete, chi lo vorrà, la possibilità di approfondirlo. Da una parte abbiamo chi mette al centro della propria cultura, se così si può chiamare, il soggetto, l'individuo, la cui caratteristica essenziale, e non l'argomento, è l'autoreferenza, ovvero io sono giudice e attore di me stesso. Dall'altra parte, invece, abbiamo un raggruppamento che mette al centro la persona, ovvero, sì, un individuo, un soggetto, che però si vede in relazione con altri. E il primo dice, io basto a me stesso, il secondo dice, mi prendo cura dell'altro. Il primo punta sulla dipendenza, l'altro punta sulla autonomia. Ecco, io credo che il percorso, ad esempio, che voi state facendo nell'ambito della scuola, punti proprio questo, a favorire la dipendenza, e questo è possibile perché viviamo in un contesto di pace. Senza questa condizione di base sarebbe veramente molto difficile poter progredire nella libertà e nell'autonomia. Grazie e buon lavoro e buona giornata. Passo la parola a Metella Montanari, direttore, a farsi chiamare così, dell'Istituto Storico di Modena. Salve a tutti, grazie di essere qua. Due parole brevissime proprio per presentare il relatore di oggi, il professor Focardi, insegna storia contemporanea all'Università di Padova. L'abbiamo chiamato perché con molti di voi abbiamo intrapreso un percorso già lungo e consolidato nel tempo, che passa anche attraverso alla formazione degli studenti e dei docenti e ai viaggi della memoria. E in particolare quest'ultimo punto per noi è particolarmente rilevante, perché proprio con questi approcci, insomma, cerchiamo di mettere al centro della nostra attenzione scientifica e didattica, ma anche culturale come cittadini, la dimensione dell'Europa. Quindi quale migliore occasione per riflettere a 30 anni dalla caduta del muro, che fuori da ogni retorica ha rappresentato per tantissimi decenni, per tanti decenni, un luogo simbolico e dell'immaginario, un oggetto di paura, di terrore per alcuni, ma anche un oggetto di speranza, ma anche una possibilità di raccontare storie. Il cinema e la letteratura si sono spesi moltissimo in questa direzione. Credo che forse qualcuno di voi, anche qualcuno di questi lavori, li possa aver visti. Perché abbiamo chiamato il professor Focardi, che è, tra parentesi, anche il direttore del Comitato Scientifico dell'Istituto Nazionale, che ha sede a Milano, cioè i nostri fratelli maggiori, diciamo. Perché il professor Focardi si è occupato da sempre, non solo di Europa, ma con più precisione del rapporto tra Italia e Germania, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Il muro è legato al tema della Seconda Guerra Mondiale, a come viene disegnata l'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, e a come i popoli, diciamo le comunità, hanno raccontato la storia della Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'89 l'Europa si è allargata moltissimo. Cosa significa oggi confrontarsi con paesi che per 40 anni sono cresciuti, sono stati educati al racconto di una guerra e dei vincitori e dei invinti in modo completamente diverso da quello che è accaduto da noi in Occidente. Cosa significa quindi fare un'Europa e fare gli europei? Focardi ha, studiando questi temi, pubblicato un libro dal titolo estremamente suggestivo, oramai del 2013, ma che ha avuto un notevole successo, insomma, che era il cattivo tedesco e il bravo italiano, la rimozione delle colpe della Seconda Guerra Mondiale, cioè il tema degli stereotipi. Come si costruisce il sé, l'identità nazionale, e come si costruisce la rappresentazione dell'altro, in questo caso sempre di una comunità nazionale. E poi ha affrontato proprio questo tema, l'Europa e le sue memorie, le culture politiche del ricordo dopo il 1989, ma anche Italia e Germania dopo la caduta del muro, politica, cultura e economia. Grazie e ascoltiamo il professore. Grazie, grazie per l'invito, grazie a Metella per l'introduzione, grazie al vice sindaco e al rappresentante della banca che hanno introdotto questo incontro in un luogo meraviglioso, diciamo, complimenti, è veramente magnifico. Allora, sì, il titolo del mio intervento, come vedete, la svolta dell'89, un'Europa tedesca o una Germania europea, vi confesso che questo titolo non è farina del mio sacco, come sempre uno, come dire, cerca di appoggiarsi sulle spalle dei giganti. E questo riferimento, questo titolo, questa espressione, un'Europa germanica tedesca o una Germania invece europea, si deve a un grandissimo scrittore, uno dei più grandi scrittori della letteratura mondiale, un tedesco, Thomas Mann, premiato con il premio Nobel nel 1929, un oppositore di Hitler, tra sempre nel 29, poco dopo, cioè qualche anno dopo, quando arriva al potere il nazionalsocialismo in Germania, Thomas Mann fugge, non si trova bene nella Germania nazista, fa varigire a proda negli Stati Uniti, prenderà anche la cittadinanza, scusate, statunitense, americana. Finita la guerra, caduto il regime nazista, nel 1953, Thomas Mann torna in Europa, non in Germania, va a stare a Zurigo, in Svizzera, ma fa delle conferenze in Germania. E proprio nel corso di una di queste conferenze, una conferenza che lui fa agli studenti di Hamburgo nel 1953, a studenti come voi, lui, agli studenti tedeschi che ha davanti, non so, forse era un luogo come questo, forse più grande, forse più piccolo, immagino ci fosse stata tanta gente, era molto noto Thomas Mann. Ebbene, lui esprime l'idea, l'auspicio di un'Europa unita, con al centro una Germania riunificata. E aggiunge, questo sogno è possibile a una condizione. Dobbiamo dissipare negli altri popoli europei la sfiducia e la paura nei confronti dei tedeschi. I popoli europei non hanno fiducia nei tedeschi, hanno paura ai tedeschi, perché i tedeschi, pochi anni prima, hanno scatenato la Seconda Guerra Mondiale, hanno fatto milioni di morti e distrutto gran parte dell'Europa. E lui invita i nuovi tedeschi, cioè gli studenti che ha davanti, appunto a, queste sono proprio la citazione, le parole di Thomas Mann, a manifestare chiaramente con coraggio la propria volontà, non di un'Europa tedesca, ma di una Germania europea. Da qui ho tratto il titolo. Bene, allora, 1989, 1990, un sogno che si realizza, il sogno di Thomas Mann inizia a realizzarsi con la caduta del muro. Qui appunto vedete un'immagine, una delle tante immagini iconiche, che molti di noi conoscono e che comunque, se non le conosciamo, ce le stanno rimandando in questi giorni in televisione, quindi le vedete ovunque. Siamo proprio nel cuore di Berlino, quella che vedete dietro è la cosiddetta porta di Brandeburgo, un monumento neoclassico che stava nella Berlino Est, al confine con Berlino Ovest. E perché le due date, 89 è il 9 novembre, lo celebriamo domenica prossima, il giorno in cui questo muro viene abbattuto, il 1990, l'anno successivo, è l'anno in cui le due Germanie si riunificano. E come mestiere faccio lo storico, ho così la pretesa, non so se ho una presunzione, che la storia serva, cioè per capire i fatti dell'attualità, i momenti in cui ci troviamo, dobbiamo tornare indietro, riflettere su quello che è successo prima per capire quello che succede oggi e magari ipotizzare anche quello che potrà succedere. Questa è la Germania anno zero, Stunde null, dicono i tedeschi, ora zero. È la stessa porta di Brandeburgo, però nel 1945. La città è stata appena distrutta, conquistata dall'Armata Rossa. qui vedete quello che resta di un camion crivellato di colpi, palazzi distrutti alle spalle, la porta di Brandeburgo ancora in piedi, anche se gravemente danneggiata. L'aquila tedesca del Reich, come vedete, porta un'aquila con la svastica, è stata abbattuta e sui palazzi di Berlino, capitale del Reich, sventola la bandiera rossa, con la falce e il martello, l'Unione Sovietica, alleata con Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti, ha conquistato Berlino. Com'è la Germania? Com'è Berlino? Berlino è ridotta in macerie. Queste sono le famose donne delle macerie, perché le donne? Cosa fanno le donne? Perché le donne? Perché gli uomini sono in gran parte morti, non ci sono, sono feriti, sono prigionieri di guerra all'estero, a Berlino restano prevalentemente le donne e le donne sistemano le casse, sistemano le macerie. Questa è un'altra immagine, qui qualche uomo lo vedete sul sparuto, mi hanno detto che c'è un puntatore laser, eccolo là, uomini, il resto sono tutte donne che sistemano quello che resta della Berlino distrutta dalla guerra. questa immagine della Germania anno zero è centrale in uno dei film più importanti di un autore italiano, Roberto Rossellini, che nel 1948 appunto gira un film, Germania anno zero, lo gira a Berlino, qua vedete questo è il manifesto pubblicitario del film, questa è la prima immagine del film, lo gira in una Berlino appunto ridotta in macerie, qui non so se notate, questa è la telecamera che riprende, chi riprende? Riprende un ragazzo perché al centro della storia c'è un ragazzino di 13 anni che si chiama Edmund e lo vedete anche qua. Il giovane Edmund è la gioventù senza Dio, l'ho titolata così questa slide. qui c'è la storia, cosa racconta questo film? Racconta appunto della vicenda di questo ragazzino Edmund Köhler che si aggira nelle rovine della Berlino distrutta all'indomani della guerra, il padre è invalido, sta a letto, non si può muovere, la madre è morta durante la guerra, la sorella esce con i soldati alleati e si pensa che si prostituisca per avere delle sigarette, il fratello maggiore che ha combattuto in Unione Sovietica in Russia sta chiuso in casa in quanto ex nazista ha paura di essere arrestato e Edmund si procaccia da vivere, procaccia da vivere per tutta la famiglia con degli espedienti, barate, in continuazione cammina nella Berlino distrutta in macerie e cerca qualcosa per mangiare per la sua famiglia. poi però arriva un momento di svolta, Edmund incontra il suo vecchio maestro delle elementari che è un ex nazista, un convinto nazista e lo convince, scusate il gioco di parole, che il padre, il padre di Edmund che è fermo, invalido a letto, rappresenta semplicemente un peso per la famiglia e non c'è posto nella società per chi è solo un peso. e dunque Edmund avvelena il proprio padre, uccide il proprio padre e quando poi si rende conto di cosa ha commesso, preso da grande rimorso di coscienza, a sua volta si suicida. Ecco quindi una Berlino in macerie in cui una gioventù cresciuta negli anni del nazismo che ha introiettato i valori del nazismo è una gioventù perduta in qualche modo, una gioventù senza Dio, questo è il titolo, gioventù senza Dio, di un romanzo di Horvion Horvat che esce nel mediato dopoguerra e descrive questa gioventù tedesca intrisa di ideologia nazista che è una gioventù per la quale sembra non ci sia futuro. Ricordatevi, la stessa gioventù a cui invece Thomas Mann otto anni dopo chiede di diventare europea, di dissipare i dubbi dell'Europa. E questo era, così ho preso una foto, era, poteva essere un Edmund o uno dei tanti Edmund che negli anni del nazismo dopo il 33, dal 33 al 45 hanno marciato convintamente sotto le insegne italiane e hanno conquistato l'Europa distruggendo l'Europa. infatti, il peso della colpa e le sue conseguenze. Che cosa grava sulla Germania dopo la seconda guerra mondiale? Grava il peso di una grave colpa, aver avuto la responsabilità principale, predominante, anche se non esclusiva, dello scatenamento di quella guerra e di aver condotto una guerra di annientamento, una guerra anche lì basata su un'ideologia, l'idea di una razza superiore che ha diritto di avere il proprio spazio vitale cacciando altri popoli e sterminandoli da quell'area. E qui ci sono un'immagine che conoscete, questo è l'ingresso di Auschwitz. Io ho aggiunto i campi della morte perché nell'immediato dopo guerra non era Auschwitz, non è stato Auschwitz il campo più conosciuto. Auschwitz è un campo di sterminio, vi venivano distrutti gli ebrei, era anche un campo di concentramento, ma noi lo conosciamo come campo di sterminio, erano molto più noti ad esempio i campi destinati agli oppositori politici, Mauthausen, Dachau, eccetera, ma non si faceva distinzione. Sui giornali, voi prendete un giornale nel 45, nel 46, si parlava dei campi tedeschi come i campi della morte e secondo me è molto pregnante questa definizione. I campi della morte che rivelano, una volta che gli alleati arrivano in Germania rivelano immagini come queste fosse comuni con quello che resta di centinaia, migliaia di persone, quelle che erano persone. E la Germania aveva sfidato diciamo le potenze mondiali per creare la propria egemonia in Europa, queste sono, queste in azzurro, in blu e in azzurro, sono le aree conquistate dal Reich, dal Terzo Reich per stabilire appunto il nuovo ordine tedesco basato su criteri razzistici di un razzismo biologico che come vedete questa dovrebbe essere la massima espansione andava dalla Norvegia, Finlandia, tutta la Francia, Olanda, tutta l'Europa centrale, dalla Polonia, Ucraina, i Balcani, l'Italia anche quanto alleata fino a arrivare ben dentro l'Unione Sovietica. Ebbene, la Germania appunto dicevamo aveva sulla propria coscienza questa grande colpa, questa grande responsabilità, i vincitori cosa vogliono fare della Germania? Beh, innanzitutto è ovvio, l'avreste fatto anche voi, l'avremmo fatto anche noi, innanzitutto punirla, la punizione della Germania, la punizione viene pensata, elaborata, decisa, messa nero su bianco a una conferenza a Potsdam, che è fra un paesino accanto a Berlino, non a caso i vincitori si ritrovano lì, e impostano una politica basata sulle cosiddette 4D, demilitarizzazione, denazificazione, decartellizzazione, democratizzazione della Germania. Demilitarizzazione è auto-evidente, la Germania aveva un grandissimo esercito, va demilitarizzata, non dovrà più esserci un esercito tedesco in grado di sfidare l'egemonia europea, va denazificata, anche questo è ovvio, è il motivo per cui il fratello di Edmund se ne stava a casa e non usciva, perché sennò sarebbe stato arrestato e internato, decartellizzata, questo è un concetto che va chiarito, si fa riferimento ai cartelli economici, ai grandi gruppi economici come la Krupp, ad esempio, che avevano appoggiato il regime nazista e che quindi si decide che questi gruppi vanno smembrati. Qualcuno addirittura voleva trasformare la Germania in un paese di artigiani e di pastori, farla tornare a un livello di agricoltura di base e non era uno che contava poco, era Henry Morgent il ministro del tesoro degli Stati Uniti e la Germania va democratizzata. Per democratizzare la Germania, ad esempio, nell'immediato dopo guerra, si mostrano ai tedeschi con la forza quelle immagini delle fosse comune, di quegli scheletri umani, cioè si prendono proprio paesini interi, si organizzano delle proiezioni pubbliche, potrebbe, come magari noi, come se adesso facessimo vedere delle immagini dei campi di concentramento, e si obbligano i tedeschi di ogni età a guardare quelle immagini per capire che cosa hanno fatto, magari non direttamente loro, ma che cosa hanno consentito che i loro capi politici facessero. Dicevamo la punizione, questo è il passaggio più noto, processo di Nuremberg, un processo viene condotto presso un tribunale internazionale, vengono posti sul banco degli accusati 24 caporioni nazisti responsabili dell'esercito tedesco, del partito, eccetera, eccetera, che sono qua, questi che stanno con le cuffie e stanno ascoltando probabilmente cosa dicono i giudici o gli avvocati, e dieci di questi vengono impiccati, Goering, come sapete, prende il cianuro e si suicida, ma Nuremberg, pur importantissimo, è solo la punta dell'iceberg, perché qui appunto vengono processati e condannati 24 alti esponenti del partito nazista o dell'amministrazione nazista, ma subito dopo, anzi, ancora prima, durante e dopo il processo in Orimberga, vengono condotti migliaia di processi contro criminali di guerra tedeschi, solo nelle zone, solo inglesi, francesi e americani, quindi esclusi sovietici, processano 5.000 tedeschi per crimini di guerra, 800 di questi vengono condannati a morte, un terzo delle condanne viene eseguita, qui ho anche messo alcuni dati, ad esempio i tribunali statunitensi sono quelli che fanno più processi contro criminali di guerra, 1814, 450 con danni a morte e così via, quindi una politica punitiva per denazificare la Germania, non solo i capi vengono colpiti, anche ufficiali, sotto ufficiali, soldati, esponenti del partito nazista, a fianco di questa azione c'è poi tutta l'epurazione, c'è un impiegato pubblico che aveva preso la testa del partito nazista dopo una certa data precocemente viene e perde il lavoro e spesso vengono anche internati in dei campi di concentramento, sono dei campi di internamento. Ma torniamo alla questione grossa, per così dire, la punizione l'hanno decisa i vincitori, qui voi vedete a Yalta, conferenza di Yalta febbraio 1945, la guerra è ancora in corso, sarebbe finita qualche mese dopo, Churchill, Premier britannico, Roosevelt e Stalin. Scusate, ho questa macchinetta, funziona bene. E alla conferenza successiva di Posdam, luglio-agosto 1945, si dà attuazione di un principio già deciso a Yalta, la foto precedente, vale a dire la suddivisione della Germania in quattro zone di occupazione. E qui le vedete, zona britannica, nord, l'attuale Ruhr, attuale, non so, Dortmund, Colonia, eccetera, zona francese, sul confine con la Francia, zona americana, questo è Monaco, questo è Francoforte, zona sovietica, Lipsia, Dresda e Berlino. La cosa interessante, notate, Berlino è all'interno della zona sovietica e a sua volta è suddiviso in zone di occupazione. Ora, scusate, questa è, andiamo avanti, e la, poi ci torniamo. Eccolo qua, Berlino. Berlino è a sua volta divisa in zone di occupazione, eccola qua, ci sono le bandierine, questa zona francese, zona americana, zona, scusate, britannica, zona statunitense, questa è Berlino ovest e di qua, Berlino oest. Zone di occupazione anche la, Berlino, dentro la Germania, dentro la zona orientale controllata dai sovietici è a sua volta divisa in zone di occupazione. Gli accordi fra i vincitori prevedono che ci sia libertà di passaggio dalle zone occidentali, torniamo indietro, della Germania a Berlino. Berlino è dentro la zona sovietica ma gli altri vincitori hanno diritto di andare e tornare da Berlino quando vogliono. Qui c'era, avevo messo un'altra slide, ah no, eccoci. Qui era, vi facevo vedere, anche questo è interessante perché questa è la Germania che esce dalla seconda guerra mondiale, queste sono le zone che la Germania perde, queste vanno alla Polonia, Pomerania, Slesia, e queste vanno invece all'Unione Sovietica. Berlino, qui c'è un'altra, si vede meglio, la suddivisione in zone di occupazione di Berlino. Quindi la Germania è divisa in zone però la Germania doveva essere amministrata come un'unica nazione, questi erano gli accordi di Potsdam. Noi la controlliamo dividendo la zone ma la dobbiamo da un punto di vista ad esempio economico gestire come se fosse ancora un paese unico. Poi le cose cambiano, nasce la guerra fredda, quelli che erano alleati, quei quattro alleati invece si contrappongono, nascono dissapori, gli occidentali contro l'Unione Sovietica. Gli occidentali a un certo momento soprattutto gli Stati Uniti e la Gran Bretagna e un pochino la Francia a seguire con qualche ritrosia decidono che bisogna cambiare assolutamente politica nei confronti della Germania e passare da una politica punitiva a una politica di ricostruzione. Ma questa politica non lo si può fare in tutta la Germania perché una parte della Germania è controllata dai sovietici, la dobbiamo fare nelle tre zone occidentali, quella francese e inglese e americana e c'è l'idea di creare dunque una Germania occidentale. Reazione dei sovietici. I sovietici non vogliono che si crei una Germania occidentale e allora cosa fanno? Bloccano gli accessi a Berlino. Questo è il primo blocco di Berlino nel 48, 48-49 quindi rompendo quegli accordi che prevedevano che i treni gli autocarri eccetera da occidente potessero arrivare a Berlino e tornare indietro bloccano gli accessi. Cosa fanno gli americani che hanno sempre un'enorme capacità logistica e grande capacità di mezzi? Eccolo qua usano gli aerei per rifornire Berlino e dopo pochi mesi grazie a anche una abilissima organizzazione sono in grado di rifornire per via aerea Berlino ovest e di questo si tratta senza problemi tant'è che in certo momento preso atto che gli americani sono in grado di rifornire Berlino ovest per via aerea i sovietici tolgono il blocco e eccolo qua si arriva a cosa? Si arriva alle due Germania. Nel 49 nascono le due Germania la Repubblica Federale Tedesca questa verdolina a ovest con il suo simbolo e la Repubblica Democratica Tedesca ad est Repubblica Federale a ovest inserita nella sfera di influenza angloamericana il capitalismo occidentale la invece lo stato della Germania orientale inserita ad est regime sovietico e progressivamente poi integrata nel blocco sovietico come vedete questo è Berlino e anche qui vedete la parte occidentale colorata di verdolino perché resta appunto controllata dagli occidentali e la parte invece orientale al colore è azzurra come il resto della Germania orientale spero che questo fin qui insomma sia abbastanza chiaro andiamo a vedere perché ci interessa soprattutto ora dare un'occhiata a cosa succede nella Germania occidentale che nasce nel 1949 in tedesco si chiama Bundesrepublik Deutschland BRD è la sigla no? chi comanda in Germania? comanda questo signore Conrad Adenauer detto De Aralte il vecchio infatti come vedete era nato nel 1876 nel 49 quando arriva al governo insomma ha già la sua età è il leader della democrazia cristiana tedesca è stato un oppositore è stato intanto sindaco per tantissimi anni di Colonia la città sul Reno è stato un oppositore tiepido del nazismo durante il nazismo lui è rimasto in Germania l'hanno messo in caccia c'era un paio di volte ma insomma pochi mesi e poi è uscito un grande giornalista italiano Indro Montanelli mi ricordo delle corrispondenze del 49 48 49 diceva che aveva la sua testa la sua faccia assomigliava a un guscio di una noce siete d'accordo? un po' sì secondo me quindi il vecchio che assomiglia un po' a un guscio di una noce cosa ci interessa il rapporto di questa della nuova Germania con il suo passato questa è una parola una di quelle parolone lunghissime tedesche che qualcuno di voi farà tedesco le conosce Fergangenheitspolitik di Adenauer cioè la politica del passato di Adenauer allora mentre gli alleati avete visto prima volevano denazificare dimilitarizzare democratizzare Adenauer arriva al governo e dice colpo di spugna lo trovate sotto quindi noi siamo contrari al principio della colpa collettiva i tedeschi non sono colpevoli del nazismo cosa si fa? si fa una bella amnistia eccola qua quindi tutti quelli che erano stati condannati o messi nei campi di internamento come nazisti incalliti fuori liberi è quello che fa non solo lui libera anche i criminali di guerra che non chiama criminali di guerra attenzione le parole hanno un peso li chiama i condannati per la guerra cioè quelli che hanno ucciso magari non so i responsabili di Montesole Marzabotto siamo qua insomma da queste parti lui non li chiama criminali di guerra sono soldati tedeschi e sono stati condannati per la guerra è molto più soft non li colpevolizza e raffigura i tedeschi come vittime del nazismo e della guerra noi tedeschi come gli italiani o come i polacchi o come i francesi siamo stati vittime della guerra e crea il mito della Wehrmacht pulita chi sono chi erano i cattivoni chi sono i responsabili dei crimini Hitler è un pugno di scagnozzi delle SS noi tedeschi normali abbiamo subito questo regime e anzi i nostri soldati Wehrmacht l'esercito regolare hanno combattuto in maniera dignitosa degna non hanno commesso crimini di guerra il mito della Wehrmacht pulita i crimini li hanno fatti solo le SS come se poi fossero degli alieni le SS quindi l'idea del colpo di spugna del silenzio comunicativo e in questo colpo di spugna sul passato appunto prima parlavamo un po' di cose italiane rientra anche una figura come quella del Feldmaresciallo Albert Kesselring comandante in capo delle truppe d'occupazione tedesche in Italia dopo il 43 e come tale responsabile di un sacco di stragi compiute contro italiane anche uomini e donne italiane lui era stato condannato a morte nel 47 da un tribunale inglese a Venezia era stato poi la condanna era stata commutata in ergastolo e però nel 52 viene liberato e se ne sta tranquillamente in Germania qui un paio di cosette che sono interessanti per capire questa Germania qui c'è un'altra parola super lunga tedesca All'infertitungsanspruch che vuol dire cioè allora è tradotto sotto quindi è facile lo trovare rivendicazione della rappresentante esclusiva del popolo tedesco cioè la Germania occidentale Adenauer dice noi siamo l'unica Germania l'altra Germania la Germania orientale comunista non sono non rappresenta niente tant'è che li chiama spesso usando una sigla SBZ Sovietische Besatzung Zone voi siete nient'altro che la zona di occupazione sovietica noi siamo uno stato noi rappresentiamo la Germania e i tedeschi voi non rappresentate niente perché dice questo dice perché noi abbiamo votato liberamente nel 49 noi siamo un governo eletto voi siete un governo è stato imposto dalle autorità comuniste eccetera eccetera poi non è così semplice la cosa ma questa è la è talmente convinta talmente convinta la Germania occidentale che solo lei rappresenta la Germania che a un certo momento elabora anche una dottrina di politica estra per cui se qualche stato gli viene in mente di riconoscere l'altra Germania da un punto di vista politico-diplomatico ecco noi tagliamo immediatamente i rapporti diplomatici con questo stato cosa che avviene ad esempio con la Jugoslavia o con Cuba prego ah davanti perché invece se lo punta contro il computer non si vede davanti in senso che io sono utilizzato per andare davanti con il microfono va bene si mi hanno detto giustamente che io il laser lo devo puntare scendendo in mezzo a voi diciamo comunque per ora andiamo avanti sempre nel 49 appunto la Germania occidentale si dà la legge fondamentale che è quella in vigore tuttora Grundgesetz non la chiama Costituzione perché loro pensano che abbia un carattere transitorio perché prima o poi noi ci vogliamo riunificare e allora ci sarà una Costituzione nel preambolo però si lascia aperta la strada a questa riunificazione l'intero popolo tedesco resta chiamata a realizzare in libera autodeterminazione l'unità e la libertà della Germania andiamo avanti che fa Den Haver che fa sta Germania occidentale si integra nell'occidente prima scelta la Westpolitik politica occidentale si crea la Comunità Europea del Carbone dell'Acciaio questa ceca non vuol dire che ceca sono le iniziali per Comunità Europea del Carbone dell'Acciaio il primo nucleo dell'Unione Europea di oggi Francia Germania soprattutto si mettono d'accordo per condividere il carbone che allora è l'acciaio che erano le risorse strategiche c'è la Comunità Europea di difesa un esercito europeo che però non funziona entra nel patto atlantico da vita alla Comunità Europea Comunità Economica Europea e poi l'obiettivo della riunificazione è ben presente e come ci vuole arrivare Adenauer a riunificarsi con l'altra parte di Germania che è nel blocco orientale comunista attraverso una politica della forza verso est cioè lui non riconosce due stati tedeschi la vera Germania siamo solo noi non riconosce altra cosa fondamentale per gli equilibri europei di oggi per le sensibilità dei polacchi verso i tedeschi o dei lunghi la Germania occidentale non riconosce le frontiere uscite dalla seconda guerra mondiale non c'è mai stato un trattato di pace che l'abbia decise però non riconosce ad esempio di aver perso un sacco di territori che sono andati alla Polonia non riconosce la famosa linea Oderneis il confine tedesco-polacco quindi questa Germania che da un lato si integra nell'Occidente è una democrazia che funziona benissimo sono gli anni del miracolo economico già nel 1953 comincia ad arrivare un sacco di tedeschi ho trovato i documenti qui a Rimini al mare no? sono i turisti che hanno proprio il ministero degli estri tedeschi gli fa il decalogo attenzione agli italiani che sono un pochino marpioni cose di questo genere ma per dire hanno un boom economico eccezionale però rispetto agli obiettivi politica estera è una Germania che insomma qualche inquietudine la suscita ancora e c'è la famosa e dice com'è che arriverò all'unità a riunificarmi ci sono due presupposti nella politica di Naver la prima che l'Occidente da un punto di vista strategico è superiore all'Oriente lì c'è l'idea della superiorità nucleare americana rispetto a quella sovietica e poi un'altra idea e questo questo non funzionerà e c'è poi la parità strategica fra i due grandi potenze l'altra idea interessante cioè noi noi siamo come dire una vetrina il nostro modello economico capitalista che distribuisce un sacco di macchine un sacco di benessere ai tedeschi ai nostri cittadini attirerà gli altri tedeschi farà da magnete rispetto ai tedeschi della Germania orientale la teoria del magnete una forza di attrazione del modello tedesco occidentale ed è esattamente quello che succede qui trovate indicate il numero di tedeschi emigrati o fuggiti nella Germania occidentale dalla Germania orientale e da Berlino Est dal 49 al 61 dal 49 quando sono nata le due Germania al 61 quando viene costruito il muro di Berlino e perché viene costruito questi numeri lo dicono chiaramente nel giro di quanti sono 12 anni scappano dalla Germania orientale in Germania occidentale 2 milioni quasi 700 mila persone con una popolazione di 17 milioni e sono come dire il cuore il sangue di un paese sono giovani avvocati architetti tecnici specializzati operai specializzati scappano appunto attirati dalla Germania occidentale vanno in Germania occidentale è anche vero che una quota di questi torna di là circa mezzo milione tornano di là però c'è questa emorragia emorragia continua come vedete molti di quelli che scappano scappano proprio da Berlino cioè da Berlino Est a Berlino Ovest e da Berlino Ovest poi nella Germania occidentale ovviamente dal punto mettetevi nei panni di chi comanda a Berlino Est dice no questa roba non va bene dobbiamo bloccare questa emorragia ed è esattamente quello che viene fatto 13 agosto 1961 viene costruito il muro un'immagine quindi che un muro di oltre 100 km che separa le due Berlino quindi non è più possibile scappare da Berlino Est a Berlino Ovest e da lì andare in Germania occidentale e qui trovate sulla qui ci sono varie immagini sulla vostra destra o sinistra non lo so vedete in lontananza la porta di Brandeburgo quella che abbiamo visto già un paio di volte e il muro che passa proprio sotto la porta di Brandeburgo porta di Brandeburgo Est Berlino Est da quest'altra parte Berlino Ovest qui altra immagine della porta di Brandeburgo filo spinato carri armati in questo caso sovietici a presidiare uno dei punti di passaggio fra le due parti della città e tutta poi l'epica diciamo del muro come sapete sono stati fatti tantissimi tentativi di attraversare il muro circa 5.000 persone nei modi più strani con le mongolfiere chiusi dentro le macchine proprio messi dentro il motore scavando tunnel 5.000 persone ce l'hanno fatta in questo caso questo è una foto notissima questo è un militare della Germania Est uno dei VOPOS la polizia del popolo che scappa dalla sua parte e va nella Germania occidentale un centinaio non ce l'hanno fatta che c'era l'ordine di sparare e sono morti questa è un'immagine del muro più recente qua c'è scritto 1985 quindi pochi anni prima della fine del muro ma torniamo alla Germania perché cosa sta succedendo intanto in Germania la Germania occidentale non resta ferma al colpo di spugna sul passato di Adenauer no va avanti c'è un cambiamento molto importante che è esemplificato da quest'uomo quest'uomo Willy Brandt nato a Lubecca nel 1913 come vedete morto in 92 ma Willy Brandt è una figura di grandissimo rilievo borgomastro di Berlino proprio negli anni successivi alla costruzione del muro sarà cancelliere tedesco nel 69 ma andiamolo a conoscere meglio quindi un politico un social democratico politico di grandissimo calibro della Germania occidentale conosciamolo meglio innanzitutto non si chiamava Willy Brandt non era il suo nome lui era nato a Lubecca nel 13 e il suo nome vero era Herbert Fram era nato umilissime origini la mamma non so che lavoro faceva ma umilissime origini si era iscritto subito giovane a 17 anni nella socialdemocrazia tedesca nell'SPD quando il nazismo arriva al potere nel 1933 lui combatte contro il nazismo entra in clandestinità e prende il nome di battaglia di Willy Brandt non so da dove l'avesse preso però il nome Willy Brandt è il suo nome di battaglia da antinazista contro la Germania nazista lui poi deve scappare dalla Germania va in Danimarca va in Svezia quando nel 47 finita la guerra torna in Germania riprende la cittadinanza tedesca che il nazismo gli aveva tolto e a quel punto però dice no adesso io mi chiamo Willy Brandt prendo il mio nome di battaglia il nome causato quando combattevo contro i nazisti e inizia una politica quindi è una figura molto diversa rispetto al vecchio cancelliere Adenauer un conservatore cattolico piuttosto duro un antinazista sì ma insomma un forte conservatore Willy Brandt ha un passato diverso non l'avete appena visto e inizia una os politica una politica verso est la inizia già da borgomastro vuol dire sindaco era sindaco di Berlino Ovest e allora cosa fa lui dice no guardate è inutile contrapporci duramente dire che gli unici veri tedeschi siamo noi occidentali quegli altri non sono niente no dobbiamo fare piccoli passi venirci incontro lui parla del cambiamento attraverso l'avvicinamento e una cosa concreta che fa e questo persia shine up common cioè un accordo sui visti di transito fra le due Berlino che realizza nel 63 è una cosa molto semplice cioè ci sono il muro ha diviso un sacco di famiglie berlinesi e lui dice bene per Natale facciamo in modo che i berlinesi dell'Ovest possano andare a far visita alle loro famiglie o anche ai loro amici ad est sì e riesce a ottenere un accordo e quell'inverno un milione di berlinesi va dall'altra parte questo accordo viene ripetuto nel 64 nel 66 eccetera ma la cosa più importante è la politica grossa è quella appunto la politica estera lui fa una serie di accordi dopo che è diventato cancelliere nel 69 una serie di accordi con l'est con Mosca con Varsavia con Praga Unione Sovietica Polonia Cecoslovacchia di fatto di fatto anche se poi ci sono tutti cavilli così che non stiamo di fatto la Germania occidentale riconosce i confini usciti dalla seconda guerra mondiale confine con la Polonia e si mette d'accordo per riconoscere e fare tutto questo si mette prima d'accordo con l'Unione Sovietica non a caso il primo accordo lo fa con Mosca successivamente fa anche l'accordo con l'altra Germania anche qui piccoli passi non è l'altra Germania non viene riconosciuta come un vero e proprio stato tedesco non c'è un secondo stato tedesco si riconosce il carattere statuale della Germania si scambiano non vere e proprie ambasciate ma rappresentanze permanenti quindi piccoli passi piccole aperture ma di grande rilievo e poi fa un passo enorme questo durante la visita in Polonia davanti al monumento che ricorda l'insurrezione del ghetto di Varsavia degli ebrei del ghetto di Varsavia che ha finito nella repressione sono stati sterminati dai nazisti lui si inginocchia rende omaggio alle vittime del ghetto di Varsavia qui ci sono altre altre immagini che lo riprendono da altre angolazioni è quello che in tedesco si chiama il Varschavarkniffal l'inginocchiamento di Varsavia o qualcuno traduce anche la genuflessione di Varsavia 7 dicembre 1970 lo poteva fare solo lui quel gesto lui che era un antinazista tedesco scappato dalla Germania lui è credibile i polacchi gli credono tu questo gesto lo fai perché sei effettivamente convinto che c'è una colpa tedesca considerate che però ancora nella Germania del tempo che già aveva fatto dei passi avanti nella resa dei conti col passato metà dei tedeschi non apprezzano il gesto di Willy Brandt dicono eccessivo il 48% dei tedeschi c'è un sondaggio allora dicono ma questo gesto di Willy Brandt è eccessivo questo gesto è considerato oggi dai politici capi di Stato oggi come dire il gesto simbolico di riferimento più importante per l'Europa di oggi quando è venuto in Italia un paio di anni fa tre anni fa il presidente della Germania Gauk Joachim Gauk e insieme al nostro ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sono andati a Sant'Anna di Stazema uno dei luoghi delle stragi tedesche naziste in Italia con centinaia di morti anche fra donne e bambini eccetera entrambi hanno rievocato questo gesto e soprattutto Giorgio Napolitano ha detto tutti noi europei adesso dobbiamo ispirarci al gesto fatto da Willy Brandt nel 1970 anche noi italiani dobbiamo riconoscere le nostre colpe i crimini del fascismo come voi tedeschi avete state riconosciuto e state riconoscendo le vostre colpe e qui siamo nel appunto entriamo in questo discorso del rapporto col passato tedesco anche più altra parola chiave della Genova la Fergangeneis Beveltigung tedesca che vuol dire letteralmente superamento del passato ma c'ha un altro significato più più profondo questa parola perché vuol dire superamento del passato attraverso la sua rielaborazione critica che potremmo dire autocritica quindi la Germania occidentale fa un percorso e da Denavri che aveva fatto il colpo di spugna che aveva detto noi nazisti no anzi anche noi vittime inizia a confrontarsi con le sue responsabilità a fare i conti con il passato ci sono tanti passaggi da qui vi ho messo alcune cose scrittori come Günther Graas Heinrich Boll che scrivono già alla fine degli anni 50 romanzi molto importanti che pungolano diciamo la coscienza tedesca parlando dei crimini commessi dalla Germania durante la guerra sociologi e filosofi come Marcuse Adorno Jaspers una serie di processi fondamentali che hanno vasta risonanza in Germania nel 61 c'è il processo contro Eichmann che è uno degli autori come sapete della soluzione finale che viene processato e condannato a Gerusalemme ma quel processo lì siamo i primi anni 60 sono gli anni in cui arriva per la prima volta la televisione cioè i tedeschi come anche noi italiani guardiamo la televisione ci informiamo sulle cose del mondo attraverso la televisione e in quell'anno la televisione proietta le immagini del processo a Gerusalemme di Eichmann proietta soprattutto che cosa le testimonianze perché per la prima volta contrariamente a Norimberga dove non c'erano stati testimoni ma solo documenti il processo è stato fatto sui documenti qui nel processo a Gerusalemme si fanno sfilare i testimoni cioè quelli che hanno il numero tatuato sul braccio che raccontano la loro esperienza la raccontano in diretta piangendo e in televisione i tedeschi vedono la vittima di Eichmann le loro vittime sopravvissute in quel caso piangere e quindi c'è un coinvolgimento emotivo c'è il processo ad Auschwitz questo è un processo che fanno gli stessi tedeschi contro le guardie del campo di Auschwitz un processo che viene fatto a Francofort dal 63 al 65 e poi cosa c'è una grande quindi il processo di resa di conto il passato inizia già a fine anni 50 e un grande impulso lo riceve scusate dal 68 tedesco dal movimento di protesta tedesco solo in Germania non in Italia non in Giappone sono gli altri due paesi del patto tripartito gli altri paesi che hanno fatto la seconda guerra mondiale hanno fatto un sacco di crimini solo in Germania il 68 ha questo valore cioè le nuove generazioni puntano il dito contro i loro padri contro i loro nonni e gli chiedono ma tu dov'eri mentre c'era Auschwitz cosa hai fatto cosa sai con una radicalità che noi non conosciamo io ho scoperto ad esempio che la moglie di un collega molto famoso lui e molto famosa lei lei è una sociologa adesso abita in Calabria io una volta ho invitato questo collega a fare una lezione da me a Padova allora parlavamo di questi temi e lui mi ha raccontato la storia dice ma dove hai conosciuto perché io ho detto dove hai conosciuto tua moglie che è tedesca e lui mi fa eh mia moglie stava a Kassel e è scappata inizio anni 70 dopo aver rotto drasticamente duramente con la propria mamma perché lei era venuta a sapere che nella via dove abitava la famiglia sotto c'era un negozio di ebrei e allora dice lei chiedeva alla mamma ma mamma ma mi hanno detto che c'era questo negozio di ebrei ma che fine hanno fatto e la mamma no ma non è vero non c'era no mamma ma no me l'ha detto anche la signora di fronte c'era certo che c'era questa famiglia di ebrei dimmi ma non ho saputo più niente insomma insiste insiste e la mamma a un certo punto gli fa ma dai ma via smettila ma in fondo erano solo ebrei è bastato questo in questo clima di resa dei conti intergenerazionale del 68 tedesco per fare sì che questa persona abbia lasciato la famiglia in Germania sia venuta in Italia poi ha conosciuto questo mio collega ma questo per dirvi la resa dei conti fra i giovani tedeschi nel 68 e il passato e altro elemento molto importante qui torniamo alla televisione nel 79 in Germania come in tutta Europa viene proiettata una serie televisiva americana che si chiama Holocaust che è la storia dello sterminio degli ebrei attraverso la vicenda di una famiglia tedesca ed ha un impatto fortissimo in Germania tant'è che si è parlato di uno sblocco della coscienza collettiva tedesca dopo la visione di questa serie televisiva americana milioni e milioni di tali spettatori in Germania i tedeschi sono profondamente colpiti in questo caso per la vicenda dell'Olocausto della Shoah fatte queste premesse che mi sembrano importanti per capire che cosa ci sta dietro a quel muro anche a quella richiesta di Thomas Mann del sogno del sogno di una Germania unita in un'Europa unita torniamo appunto al muro 9 novembre 1989 qui il muro che cade ci sono altre immagini che sono note immagini di festa qui di nuovo l'immagine che sono la porta di Brandeburgo e ora prima di andare avanti vi racconto anche una storia mia personale io sono andato a Berlino due anni prima 1987 e ve lo racconto perché mi sembra insomma io lo considero abbastanza interessante abbastanza importante io in quel periodo sono andato là con una famiglia tedesca dell'Ovest io avevo una ragazza Birgitta Grotemeyer conosciuta a Firenze che mi ero iscritto il primo anno a medicina era pieno di tedeschi che venivano in Italia a fare medicina perché in Germania c'era il numero chiuso e da noi ancora non c'era il numero chiuso e io parto da Dortmund questa ragazza mia ragazza stava a Dortmund partiamo con il padre era un era perché ora avevo perso traccia da qualche anno devo dire si chiamava Klaus professore di economia all'università a Dortmund la madre una dentista una famiglia ricca tedesco occidentali partiamo con una Mercedes lunga 8 metri e già c'è un primo momento perché c'erano tre autostrade che collegavano la Germania occidentale a Berlino una dal nord una dal centro e una dal sud per capirsi dopo un po' che viaggiamo questo Klaus mi dice vedi Filippo laggiù c'era un boschetto vedi quegli alberi laggiù ecco lì è dove nel 9 dopo Cristo il nostro Herman no Arminio ha sconfitto le legioni romani di Cesare intanto mi ha detto lì vi abbiamo sconfitti e qui poi arriviamo ci avviciniamo a Berlino e quindi eravamo su questa grande Mercedes e via via quando entravi già nella Germania prima arrivava a Berlino a Germania Orientale intorno circolavano le Trabant sapete cos'è la Trabant la Trabant è la macchinetta la macchinina della Germania Orientale quella che quello che c'era allora insomma che poteva comprare e lui mi ricordo ancora aveva questo atteggiamento di grande sprezzo cioè nei confronti degli altri tedeschi tedeschi orientali dice ah guarda così mi ricordo questi comunisti non c'ha guarda che macchinine che hanno poi lui c'era un altro elemento che mi colpì molto lui era un cattolico sapete Germania che sono cattolici e luterano allora girava poi a caccia di chiese e si informava con le persone per strada e ovviamente mi dice dov'è la chiesa magari chiedeva delle chiesine che nessuno conosceva questi non lo sapevano allora lui c'ha questo questo evangelico quindi lui ce l'aveva molto con i comunisti e con gli evangelici questo per dire anche le no le frizioni le contrapposizioni fra tedeschi ancora nell'87 e poi Berlino Berlino due cose un paio di cose si voglio raccontare perché si arrivava con la metropolitana cioè si arrivava intanto si arrivava a Berlino ed era una cosa stranissima c'era la Stato con il carro armato sovietico c'era una specie di casella autostradale prima c'era questo carro armato sovietico sul piedistallo quando arrivavamo ancora a 300 metri dal casello per capirsi dove c'era tutto il controllo c'era un nastro trasportatore e ti facevano mettere i documenti il passaporto su questo nastro trasportatore centinaia di macchine 300-400 metri prima dei e quando tu e poi a un certo momento ti dovevi mettere in una delle file del casello e io non so come se gli metto il documento qui come cavolo fanno a sapere io vado lì posso andare lì posso andare là posso andare là e però quando arrivavi loro avevano i tuoi documenti in mano prima cosa mi aveva colpito ma la cosa più interessante è proprio il passaggio da Berlino Ovest a Berlino Est che si andava a una vecchia fermata della metro si scendeva sotto lì ti obbligavano a cambiare 25 marchi occidentali per 25 marchi orientali quando in realtà prezzo di mercato il marchio occidentale valeva 4 volte l'altro i marchi orientali erano molto stretti me lo ricordo ancora avevi l'obbligo di spenderli tutti in una giornata e poi però la cosa veramente mi colpì è il controllo cioè io non avevo mai visto in vita mia cosa poteva essere uno stato di polizia una propria idea no? e lì ho avuto questa idea questa sensazione noi in genere più o meno qui quando ti fermano la polizia anche hai fatto qualcosa cerchi sempre un sorriso una mezza un'intesa e spesso si riesce anche a averla non sempre e lì invece c'era io vado era tutto buio dovevamo passare uno per volta davanti a me avevo un poliziotto della Germania orientale che avrebbe avuto la mia età io avevo 21 anni e qualcosa lui uguale e allora io provo a sorridere questo non gli si muoveva un muscolo in faccia mi guarda e comincia a sibilarmi in tedesco delle parole e non capivo niente poi mi fa il gesto con la mano appena così che mi dovevo girare e mostrargli la faccia poi ho capito il problema che sul passaporto aveva una foto senza occhiali e invece in quel momento io avevo gli occhiali però sono stati dei momenti in cui lui non ha veramente mosso un muscolo nonostante io provassi a sorridere poi ovviamente mi ha fatto passare l'altra una volta passato è andato a Berlino Berlino-Est era in fase di transizione era molto interessante perché vedevi anche lì innanzitutto sì c'erano tante travanti macchinine scarse ma c'erano anche delle belle macchine cioè la nomenclatura la classe dirigente comunista aveva delle belle macchine aveva le Mercedes aveva le Golf mi ricordo e per strada c'erano un sacco di ragazzi della vostra età con la musica e gli skateboards quindi era questo Berlino-Est quindi una città già in transizione con forte diciamo che ti dava anche forte emozioni io mi ricordo che andiamo a visitare c'è un monumento piccolo monumento la Noia Vache che sta accanto all'attuale museo di storia tedesca non so se qualcuno di voi è andato a Berlino e lì era una mattina freddissima un cielo terzo azzurro ma freddo freddissimo ho assistito al cambio della guardia nel senso c'erano due militari dalla porta dalla porta di questo edificio che saranno stati cento metri di distanza escono altri tre militari con un ufficiale o sotto ufficiale non so io che dava degli ordini in tedesco molto diciamo categorici e i due militari avevano stivali lucidissimi fino al ginocchio neri e facevano il passo dell'oca perché la Germania orientale aveva mantenuto il passo dell'oca e quindi in questa mattina fredda di Berlino queste parole in tedesco molto forti questo passo dell'oca questi colpi sul pavimento di questi stivali insomma c'era con me un po' mi ricordo c'era una comitiva di giapponesi erano impazziti credo abbiano fatto 102.000 fotografie però ecco a parte quello questo è un ricordo molto forte un paio di anni due anni prima del crollo del muro e ora avviamoci alla conclusione il muro le premesse di quel crollo di questo muro beh fondamentalmente la disgregazione del blocco comunista dal 1985 Gorbachev segretario del PQS decide che per avere delle chance per riformare il suo sistema all'Unione Sovietica deve cedere o allentare le redini del controllo sovietico su tutti i paesi dell'Europa centrale e orientale che intanto erano in ebollizione e l'altro elemento l'altro elemento che spiega poi la caduta del muro ovviamente la rivoluzione morbida cosiddetta cioè formarsi in un movimento spontaneo di protesta nella Germania orientale dei cittadini tedesco orientali prima si parlava di lui questo signore senza questo signore non ci sarebbe stato il crollo nel muro Mikhail Gorbachev qui ho messo le due parole glasnost e perestroica che hanno connotato la sua azione politica in Unione Sovietica glasnost vuol dire trasparenza quindi questi regimi che erano quanto di più opaco ci sia quando non potevi sindacare non potevi mettere in dubbio le decisioni prese dall'alto e tutto era appunto avveniva una vera questa sì che era una casta e quindi invece bisogna fare trasparenza glasnost i cittadini devono sapere che cosa decide il partito e viceversa e la perestroica la riforma e però ovviamente senza di lui senza la figura di Gorbachev non è pensabile il la come dire il crollo del muro e però poi i soggetti protagonisti sono innanzitutto i tedeschi i tedeschi dell'est e qui abbiamo due passaggi fondamentali allora questi i tedeschi dell'est ispirandosi a quello che nel resto d'Europa stanno facendo i loro cugini fratelli non so come definirli polacchi ungheresi che stanno scendendo in piazza stanno costruendo cominciando a costruire le prime democrazie siamo nella fase di passaggio da regimi monopartiti o comunisti a regimi pluripartito la Polonia è quella più avanti ha avuto il movimento di solidarno iniziano negoziati politici fra il regime e l'opposizione quindi ispirandosi a quello che avviene tutto intorno anche i tedeschi con ritardo i tedeschi orientali si muovono scendono in piazza protestano rivendicano i propri diritti sono famose le proteste di Lipsa tutti i lunedì a Lipsa in genere i centri di aggregazione di questa protesta sono le chiese evangeliche è intorno alla chiesa che si mobilitano i tedeschi orientali chiedendo semplicemente più libertà più diritti e il motto che vedete qua è wir sind das Volk noi siamo il popolo come dire tu potere politico ci devi ascoltare perché noi siamo il popolo e qui abbiamo altre immagini un po' non so se la leggete quindi di nuovo noi siamo il popolo poi c'è scritto noi siamo la forza che qui ottiene la nuova libertà e noi e freiheit nuova libertà è scritto a caratteri maiuscoli quindi questa mobilitazione dal basso la rivendicazione dei diritti a Berlino il 4 novembre 89 ci sono un milione di persone in piazza a Berlino Est che chiedono i loro diritti un altro passaggio fondamentale che è stato fra l'altro ricordato proprio da Gorbaccio che è uscito un articolo ieri mi sono ieri l'altro su Repubblica Gorbaccio va a visitare la Germania Orientale il 7 ottobre dell'89 perché era il quarantesimo anniversario della fondazione dello stato tedesco orientale nel 49 e viene osannato dai tedeschi orientali perché lo vedono come riformatore appunto loro chiedono ai loro dirigenti di fare lo stesso di quello che sta facendo Gorbaccio fino all'Unione Sovietica e Gorbaccio viene acclamato mentre diciamo i capi della Germania Orientale hanno una paura folle e poi c'è un passaggio un passaggio fondamentale segnato dallo slogan dal cambiamento impercettibile ma sostanziale dello slogan eccolo qui wir sind ein Volk cioè si passa da dire noi siamo das Volk il popolo a dire noi siamo un popolo un solo popolo cioè si passa da una rivendicazione di diritti in Germania Orientale cittadini tedesco orientali che chiedono al loro governo maggiore libertà alla rivendicazione nazionale noi siamo un solo popolo quindi qui si guarda già alla riunificazione si guarda alla Germania tant'è che qui ci sono anche in queste scritte Wiedaferangung Deutschland riunificazione tedesca Wiedaferangung Deutschland noi il popolo siamo pronti per la decisione popolare come dire se si va se si fa votare il popolo il popolo vuole la Germania riunificata accanto c'è scritto Deutschland Einig Vaterland la Germania una sola patria e questo insomma il motto via Einfolg allora come si fa quindi come si trasforma tutto questo nella nella riunificazione intanto tutto questo produce che cosa produce ora non torno indietro perché ho paura di bloccarmi con le immagini produce il crollo del muro perché a un certo momento di fronte alla pressione popolare il governo della Germania orientale fa come hanno fatto già i polacchi hanno già fatto gli ungheresi tutti gli altri cede e consente il passaggio in Germania a Berlino Ovest in pochi giorni dopo il 9 novembre sono due milioni il pari di tedeschi orientali che vanno dall'altra parte c'è anche una forte attrazione del consumismo occidentale perché vanno di là e subito gli vengono dati non mi ricordo se 100 marchi o 125 marchi a testa che possono usare e comprare quello che vogliono nelle vetrine scintillanti di Berlino Ovest quindi c'è una questione politica sì abbiamo bisogno di diritti abbiamo bisogno di libertà vogliamo siamo un solo popolo ma c'è anche una fortissima attrazione rappresentata dalle vetrine scintillanti di Berlino Ovest però ecco un ruolo cruciale poi in questo passaggio cioè dalla dimensione così liberale della protesta potremmo definirla la dimensione nazionale della protesta un ruolo fondamentale lo svolgono i politici della Germania occidentale questi sono gli altri due protagonisti insieme a Gorbachev se volete e insieme a Bush gli Stati Uniti della riunificazione tedesca questo dietro lo sfondo la bandiera europea Helmut Kohl qui devo dire ho preso una foto particolarmente carina di Helmut Kohl diciamo ne beneficia chi era il cancelliere democristiano che subito capisce che questa è l'occasione delle occasioni se vogliamo riunificare le Germania non posso non posso perdermi quest'occasione quello accanto invece al ministro degli esteri tedesco occidentale Genscher poi ci sono le trattative che vengono fatte dai quattro vincitori della seconda guerra mondiale più le due Germanie ma questo non ci interessa 3 ottobre 1990 la riunificazione tedesca per qualcuno è stata una vera e propria annessione perché c'era la possibilità di fare un processo più lento di ad esempio elaborare una nuova costituzione congiuntamente un articolo del Grundgesetz lo permetteva ma in realtà si sceglie invece un altro articolo della legge fondamentale che di fatto sancisce proprio il bytrit l'ingresso della Germania orientale se volete dentro la Germania occidentale e qui vi ho messo due parole che sono evocative vessis e ossis perché anche dopo la riunificazione i tedeschi dell'Ovest i vessis e i tedeschi dell'Est gli ossis continuano tutto sommato ad essere separati cioè un po' quell'atteggiamento sprezzante e un po' di venato di alterigia diciamo così che avevo riscontrato nel mio suocero mancato il Klaus Grotemeyer quando andai a visitare Berlino Est nell'87 diventa diciamo un sentimento collettivo dopo la riunificazione nelle zone della Germania dell'ex Germania orientale c'è un enorme disagio sociale enorme disoccupazione tutte le vecchie industrie tedesco orientali che nel contesto del blocco sovietico funzionavano benissimo e guadagnavano un sacco probabilmente scompaiono e arriva il capitalismo occidentale i tedeschi occidentali che comprano un po' tutto quindi ci sono forti dissapori altra questione che circola tantissimo all'indomani già all'indomani della riunificazione ma non c'è il rischio che torna il quarto Reich questo rischio lo leggete sulla stampa di tutti i paesi occidentali europei occidentali in Italia in Gran Bretagna in Francia addirittura è famosa la battuta di un paio d'anni prima di Andreotti Giulia Andreotti uno dei politici lunga data italiani che disse ma io amo così tanto fece una battutina una festa dell'unità la fece dice amo così tanto la Germania che ne voglio due come dire lui era contrario alla riunificazione perché anche lui temeva la riunificazione ma l'ha misa in questa forma e quindi la paura è un quarto Reich e il ritorno di tante paure e tante stereotipi il ritorno dell'immagine del cattivo tedesco ma non è che questi tedeschi non sono ancora in qualche modo nazisti cioè tutto quel percorso di resa dei conti col passato scusate Brantes in ginocchio a Versavia ma siamo davvero sicuri che sia condiviso dal popolo tedesco non è che ora che sono tornati uniti che sono 80 milioni nel centro dell'Europa torneranno a coltivare le loro ambizioni di egemonia appunto un'Europa tedesca vi ricordate allora circolano queste paure in tutte non solo nel popolo ma nella classe dirigente occidentale no? per dire Mitterrand presidente francese eccetera eccetera e poi c'è un fatto che all'indomani della riunificazione effettivamente nella Germania orientale nelle zone della Germania orientale non nella Germania occidentale avvengono degli episodi numerosi episodi di intolleranza xenofoba e razzista nei confronti di chi? nei confronti di quelli che i tedeschi chiamano gli asilanten i richiedenti asilo semplicemente che c'erano già nel 91-92 in Germania e abbiamo questi numerosi episodi di episodi violenti di violenze commesse da nazi skin tedeschi della Germania orientale contro immigrati vengono incendiati appunto centri di raccolta in nome di che cosa la Germania ai tedeschi e ad esempio non è un caso proprio in quegli anni esce un libro in Italia anche in Italia tradotto in Italia che diciamo richiamò molta attenzione il diario di un nazi skin uno dei capi nazi skin questo Ingo Hasselbach che racconta la propria vicenda grande paura ma ci furono anche 17 morti mi sembra nel 92 però devo dire che la la società tedesca reagisce come contro questi episodi ad esempio fanno delle grandi catene umane che coinvolgono 200-300 mila persone in tutta la Germania intorno alle sinagoge e la Germania anzi si può dire riprende approfondisca quella rielaborazione critica del passato che abbiamo visto in precedenza ad esempio nel 95 viene fatta questa mostra sui crimini della Wehrmacht che sgretola definitivamente quel mito di Adenauer della Wehrmacht pulita no no i crimini li hanno fatti i nostri soldati regolari non solo le SS e ci sono immagini di questo genere o così colpe di grazia dato ad alcuni civili fucilati questo in Grecia in piccagioni eccetera cosa fa sempre in questa linea viene costruito il monumento più importante a Berlino a Berlino forse l'avrete visto che è il monumento agli ebrei d'Europa assassinati inaugurato nel 2005 non a caso è accanto al Bundestag cioè è accanto al Parlamento tedesco e a brevissima distanza dalla sede della cancelleria tedesca come dire le istituzioni tedesche si fanno carico della colpa della Germania ma non è solo il monumento agli ebrei d'Europa assassinati abbiamo sempre a Berlino un memoriale agli omosessuali perseguitati sotto il nazismo 2008 vado veloce abbiamo il memoriale le vittime sinti in Roma dello sterminio nazista nel 2012 abbiamo quello che conoscete anche molti di voi immagino conosceranno questo fenomeno delle stolpersteine le pietre d'inciampo no? cioè delle pietre che sono queste in ottone che messe davanti alle case dove abitavano o un ebreo o un perseguitato comunque dal nazismo che è stato deportato in questo caso come vedete Julitta Krause deportata nata nel 31 deportata nel 43 ad Auschwitz morta nel 43 e questi sono altri esempi che sono molto efficaci immagino le conosciate anche qui in Italia abbiamo iniziato a mettere qualche anno fa io sono molto efficace mi ricordo 5 o 6 anni fa ero con mio figlio che allora aveva 11 anni circa ad Hamburgo per una conferenza c'era tutta una serie di casette di villette monofamiliari e davanti a ciascuna di queste c'erano una o due di queste pietre mi ricordo che mio figlio diceva ma cos'è questo e glielo ho spiegato qua ti devi anche chinare per leggerlo mi ricordo rimase molto molto colpito questa è un'altra quindi una Germania che continua a confrontarsi criticamente col proprio passato e però inevitabilmente una Germania che risente anche dei venti sovranisti xenofobi razzisti che imperversano in tutta Europa c'è anche questa Germania quella che abbiamo visto a Rostock negli anni 90 via gli stranieri Auslander House qui è venuto piccolo riuscite a leggere no perché io ce l'ho molto piccolo nella mia non era qui c'è scritto nessun mescolamento nessun mescolamento di popoli e culture ci sono nascono movimenti come Pegida che significa proprio il nome patrioti europei contro l'islamizzazione dell'Occidente tutti i movimenti politici sono forti nella ex Germania orientale dove c'è ancora una forte disoccupazione forse disagio sociale dove ci sono pochi migrati ma nonostante ciò come dire hanno attecchito questi movimenti ah scusate qui c'è un errore questa non è Allianz für Deutschland ma è Alternative für Deutschland scusate che ho la socia in casa da tre settimane comincio a perdere dei colpi quindi questo è il movimento il movimento di destra tedesco che ha avuto anche un grandissimo successo elettorale proprio in Turinja pochi giorni fa prendendo quasi il 25% dei voti qui vedete sono delle immagini di moschee sbarrate c'è anche una sigla antifa che vuol dire antifascismo sbarrata e poi c'è scritto per una patria sicura für eine sicherheit stoppiamo l'islamizzazione l'idea che ci sia un'islamizzazione del paese da stoppare da bloccare anche qua deutsche light kultur l'idea che esiste una light kultur c'è una cultura dominante che deve essere quella tedesca deutsche light kultur e le scuole devono essere islam frei non ci devono essere non ci deve essere islam nelle scuole ora vado e accanto a queste forme diciamo politicamente di movimenti politici che hanno trovato anche rappresentanza istituzionale anche nelle ultime elezioni del parlamento nel 17 questo movimento politico alternative für deutschland è diventato il terzo partito c'è quasi il 13% dei voti 90 e rotti parlamentari e poi però abbiamo anche espressioni più preoccupanti forme di neonazismo in Germania queste sono bandiere di guerra della marina del secondo Reich che vengono utilizzate dai movimenti appunto di estrema destra neonazista tedesca vi ricordo che ci fu un caso un pochino che destò molto scalpore anche in Italia due anni fa una di queste bandiere fu fotografata dentro la caserma dei carabinieri baldisseri a Firenze e quindi ci furono molte polemiche anche anche in Italia altre immagini di neonazisti tedeschi fino a arrivare a episodi recenti che sicuramente avete visto ho sentito questa è la violenza antisemita dalle in Sassonia di nuovo una delle regioni dell'ex Germania orientale questo è un giovane neonazista tedesco di 27 anni che l'8 ottobre questo scorso in occasione della festa lo Yom Kippur cioè la principale festività ebraica ha provato ad entrare armato nella sinagoga di Halle perché ovviamente voleva fare una strage di ebrei la sinagoga però la porta era chiusa allora è uscito in strada e ha ammazzato le prime due persone che ha trovato eccole là questa è una delle persone uccise e qui trovate qui ho messo una vignetta che mi era piaciuta è una vignetta però italiana Halle ti fa paura rappresenta lui armato la bambina che gli dice ti conci così spari su gente inerme hai più paura tu ve l'ho messa questa non è diciamo non riguarda la Germania ma è una vignetta italiana accanto invece la reazione della Germania che difende diciamo così la democrazia contro la violenza antisemita che ha in plazio più antisemite non c'è posto per gli antisemiti e poi andiamo velocemente la signora Angela Merkel che dal 2005 governa la Germania qualcuno la ritratta così con i baffetti da Hitler soprattutto dopo la crisi in Grecia nel 2015 si fa anche qui fra i vari espressioni forse di questo antigermanesimo l'idea che la Germania dei banchieri comandi in tutta Europa questa è la sede della Bundesbank a Francoforte e però io richiamerei l'attenzione sull'altro volto della Germania che anche la Merkel interpreta così come l'aveva interpretato Willy Brandt come sapete nell'estate del 2015 crisi dei profughi siriani la Merkel decide di aprire le porte della Germania ai profughi siriani qui ci sono e ne entrano un milione però ne entrano pochi qui ci sono alcune immagini questa è una visita invece a un campo profughi queste sono società civile tedesca che accoglie i rifugiati i Refugees Welcome e andando verso la conclusione una cosa molto interessante secondo me questo è il manifesto utilizzato in occasione del giorno dell'unità tedesca nel 2014 il giorno dell'unità tedesca è la festa nazionale tedesca la nuova festa nazionale tedesca ricorre appunto il 3 ottobre in ricordo il 3 ottobre 1990 giorno della riunificazione e il motto che hanno sempre utilizzato è questo che c'è scritto in basso in rosso fereint infilfalt uniti nella diversità che fra l'altro anche sostanzialmente è il motto dell'unione europea però è interessante perché per i primi 10 anni la diversità quel riferimento alla diversità era al fatto che c'erano tedeschi dell'est e tedeschi dell'ovest ossis e vessis siamo uniti nella diversità da un certo momento in poi a partire dal 2010 il riferimento non è alle differenze fra i tedeschi ma al fatto che la società tedesca ormai accoglie persone che vengono da tutte le culture e da tutte le etnie quindi il giorno dell'unità tedesca è un giorno che celebra la Germania democratica di oggi come una società multiculturale e multietnica aperta agli altri fondata sul rispetto dei diritti umani e sulla dignità delle persone e questa ragazza come vedete che ha i colori della bandiera tedesca su una guancia è composta da tanti pezzi ai capelli biondi di una tedesca etnica non so come definirla agli occhi scuri potrebbero essere quelli di una tedesca di origine siriana o di origine turca e così via tenete presente per capire che la Germania che in occasione della festa nazionale tedesca non c'è parata militare il nazionalismo per i tedeschi resta ancora fortemente un tabù non c'è parata militare e in quel giorno le moschee sono aperte in Germania è il giorno delle moschee aperte quindi ci sono due germani che si stanno confrontando ora mi ricordo eccolo qui vi ho messo appunto la Germania oggi una citazione di Luigi Reitani che è l'attuale direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Berlino un paese europeo multietnico e multiculturale con un ampio federalismo politico e amministrativo che investe cospicue risorse nell'ambiente e nella cultura quindi una Germania per tornare a Thomas Mann pienamente europea pienamente democratica il problema è che è l'Europa che sta cambiando e un po' anche la Germania dentro questa Europa è l'Europa che è attraversata come sappiamo da da venti di xenofobia e di nazionalismo etnico che non vuole quella società multiculturale di cui si diceva sopra e per chiudere vi lascio con dandovi questo questo indirizzo internet che riguarda le celebrazioni che ci saranno domenica prossima a Berlino per la caduta del muro qui c'è uno dei tanti post che vengono messi su internet qui c'è scritto uomini e donne libere per un paese libero e se non siete stati a Berlino andate godetevi Berlino e mi hanno detto che oltre ora forse domenica è troppo presto non vi posso dire di andare domenica a Berlino forse qualcuno di voi preveggente ha già preso un aereo se qualcuno di voi andrà a Berlino sappia che ci sarà un grande concerto di musica classica davanti alla porta di Brandeburgo ma soprattutto ci saranno poi per voi che siete più giovani lo apprezzate di più 27 locali alla moda berlinesi con un giro di DJ sapete che Berlino è la capitale e la tecnica quindi godetevi Berlino e questa ringraziamo il professor Focardi per questa bellissima lezione avevamo pensato di lasciare qualche minuto per le domande ma credo già ora che voi andiate vi ringrazio ricordo a tutti i docenti e studenti che la lezione sarà visibile sui canali youtube della Biperbanca e anche dell'istituto storico grazie grazie